Si chiama Sifeddin Malahai, ha 34 anni d'età e è una persona che ha lasciato il figlio in automobile a 37 gradi di temperatura esterna per andare a bere qualcosa, forse un drink con l'amato fratello, ma costui al ritorno si è accorto che il bambino era deceduto, probabilmente per colpa di questo caldo soffocante che lascia ben poche speranze anche ai più temerai. Il bambino ripeto che aveva soli 3 anni d'età, stava solo in automobile e purtroppo ha perso miseramente la vita. Ci troviamo in Adana, in Porchia, la moglie Iba Areraki si chiama, di 28 anni, un figlio per il matrimonio, e il bambino, Badr Aldin Malahia Fisai, era stato messo a dormire e stava dormita in macchina, poi ha deciso di raggiungere il nonno per fare visita al fratello, quando è tornato all'automobile ha visto che il bambino era deceduto. una vicenda questa triste che ha dell'incredibile e che ci deve indurre a compiere una impressione quale facciamo sempre attenzione e evitiamo di bastare i nostri figli o il nostro figlio di un'attività. Un'attività. Un'attività.